Sto per loggare su minecraft Oh mi... Bella raga Benvenuti in questo... Mamma mia L'emozione ragazzi Oh mio dio Benvenuti in questo nuovo video ragazzi Ho aperto minecraft prima E sulmeno c'era scritto Last login E due mesi fa Una cosa bruttissima e impensabile Oh mio dio un gioco a cubetti Dove ci sono i mob da uccidere E un altro universo Cioè è cambiato il mondo Wow Oh ma quanta roba ha farmato Oh mio dio ragazzi quanto tempo Non ricordo cosa devo fare in questo mondo Ma io non avevo registrato un altro episodio di questo gioco Aspettate un attimo Sì ragazzi ho cercato tra i video C'è un video registrato quindi Quando voi vedrete questo video Lo scorso video sarà già uscito Quindi Ciccia Allora ragazzi Notate la mia splendida capigliatura Che ne dite? Swag Allora Ho un bel po' di quest da completare Ma quando le ho fatte queste quest Non ho la minima idea Buve le x of water Io riclamo tutta questa roba ragazzi Non ricordo come si gioca Sono diventato nubo Yello Che bello però Di entrare in gioco e claimare tutta questa roba Pi 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 Mazziamo prendere Lo che fai Io abbassate Ok ragazzi Abbiamo reclaimato tutte queste quest E dobbiamo però ancora completare la zona Manca ancora qualcosa Che è l'azoto Che ce l'ho, mi mancano i semi di cacao Che non ho Perché devo craftarli, ok, fotta una micchia E poi mi servivano le kill mobs 12 kill Devo uccidere 100 mob Ok, questa cosa potrebbe essere Un po' più lunga e faticosa del pensiero spensierato E poi altro da completare Sinceramente a me sembra tutto completato, raga Cioè potremmo in teoria cominciare A fare qualcosa di più futuristic Technologic Oh, guarda quanta bella roba qui Oh, pizzacco Pizzacco, ti impress Nello scorso video avevo lasciato in sospeso La produzione di questi affarini, ragazzi Che richiedono un botto di white antimaterial Che io stavo farmando Mi sono rivisto un pezzetto del video finale Questi cosettini, ragazzi, mi servivano Per fare questa quest che mi avrebbe dato un reward Storage shell e il crafting termina Finalmente, ragazzi, potremmo accedere all'appled Tramite un terminale con tutti i dischi dentro Sarebbe una cosa L'appled, bella mia, quanto mi manchi Non vedono, ragazzi, di automatizzare e creare degli impianti immensi Con questa roba Purtroppo avviare questo pack È molto tosta Il creatore di questo pack Gli piacciono le sfide E a me mi trova proprio a fagiolo Ci finisco dentro Proprio con tutte le scarpe, i pantaloni E tutto qua Scrable Logic Press Scrable Silicon Press Ok, facciamoli Allora Allora, reclamando le quest di prima, raga Oltre ad aver ottenuto un sacco di zeniti Ho ottenuto un sacco di anti-block Questi anti-block Che io non sottovaluterino Invece di mettermi a scavare il terreno Come al solito Come un demente Oh, cacchio, sostanza di energia Fammi vedere Vediamo se ho dell'anti Ehm... No, antimoni No Se ho dell'antimateria Qua dentro che c'è? Oh, non c'è una minchia Mettiamo un 4K storage Oh, vediamo un po' se qui ho dell'anti Manco qui Che cavolo Allora, io grazie alla farm di mob Potrei fare una cosa molto simpatica Guardate, prendere la nostra bombillata Ragazzi, è un botto Che non gioca a questo gioco Io non so se voi stavate giocando questo pack Se l'avete finito al posto mio Perché io sinceramente L'ho proprio lasciato in sospeso abbandonato Queste mi servono una 36ina Una cosa del genere Una 36ina di... Praticamente, ragazzi, guardate Vado a colorare di bianco Tutti gli anti-block Che ho ottenuto tramite i reward Ehm... Avete visto la tattica E praticamente questi anti-block Coloreti di bianco Li vado a scomporre E otterrò Otterrò il mio fatidico White antimateria Ehm... Che dia geniale Ci avevate pensato voi? Ehm... Eccola Guardate quanta bellissima White antimateria Che mi servirà per fare la quest Ovviamente me ne serve molta di più Ehm... Infatti, nel frattempo scavo Anzi, mi serve della flinte Per riparare Guardate, ragazzi Il piccone di Gesù Redstone 200 Emerald Smite... Smite... What? Ok, dovrei essere in grado di fare il secondo Inscribe Logic Press Perfetto, ragazzi Abbiamo fatto la seconda pressa Manca la terza Che è l'inscribe Sali con press Che... Oh mio Dio Oh mio Dio Quanto sarà di inscribe Sali con press Dove sta? Eccola qui Mamma mia 32, 64 Mamma mia Quanti ne servono E purtroppo, ragazzi Non credo di avere abbastanza White antimateria In effetti Ne ho solo 39 Che bello Me ne serve ancora altra Allora, per fare l'antimateria Ci vuole tanta roba Mettiamo in ordine Ma... Perché quando... Uno dice... Che sto nel posto giusto Dice Mi ci trovo proprio a fagiolo Forse perché i fagioli Stanno bene con tutto? Oh mio Dio Che verità della vita Che ho scoperto? È possibile? Oh mio Dio Le scoperte di Xaner Dobbiamo fare una... Ok Tutti questi Antiblock Dovrebbero essere white Dovrebbero darmi abbastanza Antimateria Per finire La missione Mi devo rilassare di più Sapete ragazzi Noi cercherò di andare Molto più piano Quando... Cercherò di andare Molto più piano Quando parlo nei video Così capirete meglio Quello che dico E non rimarrete lì Confusi di che cazzo Ha detto questo Dammi questa antimateria Adesso Allora L'ultima che manca Era la Silicon Che si faceva con 1,64 e 32 Mamma mia ragazzi Questa è una Ne fa mille le pensa 1,64 64 32 Ok 32 è andato 64 No 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 Ho andato E 1 Oh Oh Questo è completa Questo è completa Mamma mia ragazzi Lo gioco a Minecraft Da due mesi E sono un Pro della madonna Claim reward Mamma mia Disco da 4k Vuoto Ah cazzo Per un attimo Per un attimo Ho sparaflesciato Metti che c'è dentro qualcosa Blocchi di ferro I blocchi di ferro Ce li avevo Già me li hai dati Me li hai dati Oh Ok Ragazzi abbiamo un terminal Ragazzi abbiamo un terminal Terminal Impranto App e tubi Ci dovrei avere qualche cavetto Che mi è avanzato Oh posso collegarlo qui Qui c'è tutto l'idrogeno Sapete che questo idrogeno Ci sto facendo energia Io ora non so se con la moleca di idrogeno Ci faccio Idrogeno Con solo idrogeno Si può creare qualcosa di energetico Non credo comunque A parte utilizzarlo come fuel puro Vediamo qualcosa di figo Che si può fare con l'idrogeno Schifo 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 Niente raga Non ho trovato nulla di figo Da fare con l'idrogeno Però io qui Vorrei collegare il mio terminal Se permetti E magari portarci anche gli altri dischi Eh Pam No che brutto Bianco Ma non c'è energia Non c'è Non c'è Non c'è Ma scarico Ma che Ma noi ci siamo proprio ragazzi È vero Questo gioco c'è l'energia Io me la prendo da questa densa cella Tutte vuote Zero Zero No raga Oh cazzo Sono senza energia Che carbonara ci ho messo La carcola 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 Dovrei mettere quella Quattro per Mmm Ma sta mod L'ho messa pure Nella noia Craft Che bello Quel mod Pac Ma io lo amo Carcola Carcola Ah questo sta già in loop Ma questo sta già loopando Ok raga Ho messo una cella un po' carica Per vedere se riesco Perfetto Fantastico ragazzi Meglio di così Non si può fa Adesso io devo automatizzare Tutta questa raccolta di stone E buttarla direttamente nel Questo affare qui Nel decomposer Tanto che il decomposer ragazzi Ha un milione di rf dentro E se lo smonto E perdere un milione di rf Non ci penso manco per il cazzo Quindi proseguirò un po' con le quest Adesso vediamo che c'è da fare Ad esempio mi chiede di fare Questo power cube Che cazzo è power cube Ticone redstone Charges calculators Prende carbone redstone E carica i calcolatori Ok ragazzi Credo che andremo a finire Nella mod calculus Mmm Interessante Vediamo come si crafta Questo power cube Io spero che non ci voglia Tanto materiale strano Power cube Oh Oh Basic abacitor C'è l'ho E con tutti i virons Come si fa? Oh Non mi sembra così difficile Non si fa Quindi per fare il conduttivo iron Ci vuole ferro E redstone Dentro a questo affare E mettiamo quindi Ferro No Eh basta Merda Metti Le basta Merda Le basta Basta B B B B Mannaggia a te Io ti odio Stupida fornace E mettiamo Alloys only Ecco Fai l'alloy così no? Pezzo di zero Pezzo di zero Ok ragazzi Abbiamo messo a fare gli alloy Ok? Per ottenere il conduttivo iron E ci serve solo Ok ecco qui i miei capacitor Ne faccio quattro Forse posso farne No manco per il cazzo Perfetto Capacitor pronti Alloy in produzione E vediamo sto power cube Che minchia fa Buh Molto bene Il ferro si è cotto Il team spicco L'ho mutato E andiamo a craftare Questo aggeggio strano Che non abbiamo idea Di cosa faccia E fa parte della mod Calculus Calculator Come cacchio si chiama L'ho vista un paio di volte Ci ho dato un'occhiatina Ma non ho la minima idea Di come fungia funziona Power cube Che cazzo è sta roba? Allora ha detto redstone Ok? Prendiamone uno Evitiamo di fare danni Uno Ok E carbone Ma il carbone Il carbone non funziona Ma forse prende il coal E basta? No il coal E basta Non ce l'ho Mi serve Comunque non vorrei di niente Ma Purified coal Redstone Blocco di coal Fire coal Che minchia è coal Ok Ma la garch coal no E rich coal Coal dust E blocco di redstone Eh 9000 RF 9000 Sono un po' pochine Che cos'è questa file? Vabbè power cube Vabbè completiamola questa Vediamo che lei me lo vuole Ti ha la facciaccia tua Che zainetto è? Ah good No Avevo un good nello zaino Non avevano staccato E dicevo ma com'è Magari è più raro Invece manco per il cazzo Ci ho creduto per un attimo E vabbè Una bella pettinata E via Si continua con il video Allora Io sinceramente Aprirei questi zainetti Perché Devo passare alla prossima fase della quest E mi scrivo il telefono Ok Ok ho preso il telefono E ho fatto Ignore L'ho proprio infilato il dito Dentro lo schermo L'ho passato da parte a parte Che cazzo è sto coso? Lo so che mi ha cercato Perché ho fatto ignore Mi è arrivato il messaggio E ci ha cercato Calculator Allora allora Calculator E' uscita tutta la mod Che beh Che fantasia Chiamare la mod Come un oggetto della mod È proprio il top Porca di quella schifosa Dove sta? Calculator Eccolo qui Che è sta roba? Ah Cobblestone Ok la cobblestone è una minchiata Questo? Cobblestone e redstone Ah ma che è un pezzo? Che cos'è il gioco Dele I gormiti I bottoni Ma che cos'è? Oh mio dio Dov'è? Dammi un po' di cobblestone Please Allora sto calculator Si fa in questo No Non ci sia Ah no Vuole i bottoni Scusami I bottoni si fanno con la stone Devo cuocerla Non ce l'ho pronta la stone Vero? Eh ma per il cazzo Mettiamo un po' di cobblestone a cuocere Ok ci servono i bottoni E poi ci serviva quella specie di schermino Che si fa così Con la redstone al centro Eccolo qui Lo schermo ragazzi Lo schermo fatto con la pietra E un pezzo di pietra rossa Oh mio dio La tecnologia Hai dammi un po' Eh ma me ne serve un bot Ma chi è? Serio? Ok dovrei avere tutti i materiali Per fare questo strano affare di pietra Ok abbiamo il calculator assembly Che sarebbe la tastiera E ho perso di stare Ecco qui Bam Craftato ragazzi Calculator Not enough energy Ah Ecco svelato l'arcano Bim Ok ragazzi Quest'affare serve a caricare quest'altro affare Mamma mia che affare Ok Non faceva ridere comunque Eh non c'è Senza reward Vaffanculo Ok Reinforced stone Si crafta con un calculator Reinforced Si crafta con un calculator Si crafta con un calculator Re Wretched 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 Si chiama Reinforced stone Quindi io penso che stone e ferro No 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 Cioè non ci sono le recipe Non capisco perché Analysis chamber Io devo fare della reinforced stone E non posso craftarla Io mi ricordo I miei capelli dritti Mi danno Il potere di ricordare Che nella tecnologia Ce l'avevo le recipe Di queste cose Vi ricordate quelle cose Con il più Con la blaze Che blaze più blaze più blaze Dava la rod Pure qui Perché questo è quel più Che avevo nella tecnologia Questo più questo da questo Però qui non ci sono le recipe Io ora non so se C'è un problema con la Wila O non è stato messo Il plugin della Nei Perché la Nei ha un plugin Lo sapete Che permette di vedere Queste recipe strane Può darsi che manca il plugin Ovviamente non essendo Un modpack fatto da me Qualche carenza Ce la deve pure avere Dai non l'ho fatto io Non sono tutti onnipotenti con me Abbiate pazienza Va bene Anche per questo video è tutto Io vi saluto Ci vediamo nel prossimo video E Interrompo così Sì ragazzi Perché do andarmi a spulciare Come si crafta sta roba Perché non l'idea Amo da andare a Google E cerco la roba E vediamo che cosa esce fuori Speriamo Nulla di allucinogeno L'acquius accumulator Che c'ho È interesting Lo sapete Lo sapete Che l'acquius accumulator È interesting Perché con l'acquius accumulator Posso buttare direttamente L'acqua qua dentro E scomporla Dall'acqua esce idrogeno E ossigeno Idrogeno Ci faccia energia Se lo metto dentro Un generatore come questo Quindi io potrei fare L'acquius Che butta qua dentro Decompone E fa energia Ma vale la pena? Quanta energia ci vuole Per scomporre l'acqua E quanta energia genera L'idrogeno Ma sono che calcoli Che mi devo fare Ciao a tutti ragazzi Al prossimo video Bella per voi Lasciate un piaccio Condividete E fatemi sapere Se volete altri video Di questa serie O ne devo iniziare un'altra Non lo so Decidiamo Insomma Non ne ho ancora idea Bella per voi Ciao Ciao